Ciao mamma, ho perso il telefono e sto usando il mio vecchio telefono, puoi mandarmi un messaggio whatsapp a questo numero? Oppure, ho avuto un incidente, l'altro telefono è rotto e urgente, bisogno di denaro, non avvisare nessuno, ho fatto un disastro. Se prima la tecnica era quella del postino, ormai scontata persino per gli over 70, le nuove truffe di oggi mirano a colpire emotivamente le persone e sono sempre più al passo coi tempi per sfruttare le tecnologie avanzate, tanto che in Italia hanno già fatto piazza pulita. Dall'ultimo bilancio del 2022 le frodi informatiche sono quasi raddoppiate rispetto al 2021, toccando quasi 6.000 casi con 725 persone indagate e 36,5 milioni di euro rubati. Numeri che sono molto alti ma che non stupiscono più di tanto, dal momento che un italiano su 10 non sa riconoscerle e il 5% della popolazione non ha tutta misura specifiche per proteggere i propri dati. E ovviamente questo non fa che aumentare la possibilità di cadere nell'imbroglio. Ad oggi esistono in particolare due strade utilizzate dai truffatori. Nel primo caso è quella del messaggio inviato da un familiare, magari fuori regione, in una zona poco raggiungibile, chiedendo di effettuare al più presto una ricarica di quasi 1.000 euro tramite il canale Money, ad una carta con tanto di numero e codice fiscale di riferimento. Insomma, tutto servito su un piatto d'argento dove la vittima deve solo mandare i soldi. Un altro esempio invece è quello legato al phishing. L'utente riceve una chiamata, un messaggio via sms, che pur provenendo da utenze in uso ai criminali, sembra aggiungere dei numeri normalmente utilizzati dal proprio istituto bancario di riferimento o dalla polizia stessa. Qui entra in gioco la tecnica dello spoffing, che consente ai malfattori di effettuare chiamate scegliendo qual numero far apparire sullo schermo del cellulare. Nella comunicazione la vittima viene informata di un accesso non autorizzato al proprio conto corrente ed invitata a fornire telefonicamente tutti i codici di sicurezza. Codici che permettono ai criminali di finalizzare la sottrazione di denaro con l'inganno di spostarli su altri conti correnti ed averne inseguito la piena disponibilità, cosa ovviamente non vera. Per questo la polizia postale ha elencato una serie di precauzioni da adottare per evitare questi inconvenienti. di fidare di chi, spacciandosi per un operatore bancario delle forze dell'ordine, richiede di comunicare OTP, password o di eseguire bonifici verso altri conti. Nessuna azienda o soggetto pubblico richiederà mai tali informazioni, soprattutto da un cellulare. E poi, nel caso la chiamata provenga dalla polizia, farsi indicare il nome, il grado e la forza di appartenenza della persona. E infine, riattaccare.